Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, continuiamo la serie Life is Strange per Android, seconda parte del terzo episodio. Noi più noi, non siamo più bambini, siamo scopriando e entrando. Se ho una chiamata, come può essere scopriando? Si traciamo... per entrare? Noi più noi, potremmo andare a giocatore. Non se sono relato alla legge di Blackwell. Non mi chiede a me in la mano della polizia locali. Quindi, meglio cercare cosa è in la office principale. Puoi riuscire se si traciamo, no? Tu hai poteri di mali, Max. Ma i miei poteri non salvavano Kate. Talvez lo ho fatto per me. ok siamo nella scuola di nascosto ok queste dovrebbero essere le chiavi ma non c'è quella non c'è 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 potrebbe essere potrebbe essere non c'è 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 allora dobbiamo trovare il nostro adesivo e il colato di sodio ah e facciamola e facciamola sta foto good evening fish fish thanks fish nice work please resume your slumber cos'è quello cos'è quello ah il clorato di sodio e come lo prendo ok il naso adesivo dove si trova non c'è grazie qua che c'è non ho mai detto che erano grandi troppo dove si trova il suo adesivo in che senso puoi rivedere la live oh ma dov'è questo naso adesivo? secondo me non è in questa stanza ah ecco è nella 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 classe del professore di fotografia qua con gli occhiali che sarebbe in fondo se non mi ricordo male c'è qua c'è qua questo è come una scena in un film horror come ti avevano detto di staccare come ti avevano detto di staccare i tuoi forse come ti avevano detto di staccare come ti avevo detto di staccare come ti avevo detto di staccare che che è che 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 scimitero sigaretta ciao Lisa oh ma dov'è essere una strada di tiro tra ora che lo cerco ah eccolo ok andiamo di nuovo da Chloe cosa aggancio oh non era qui ah qua sarà la connessione non lo so o magari perché lo sto facendo dal telefono la live take it easy on the door Chloe let's try this instead boom literally yes time to blow shit up if you'll light the candle this is so cool get ready to haul ass that was so fucking cool oh we are toast here comes the whole Arcadia Bay fire and police so what should we do penso che non è stata una buona idea però questa si entro qui dentro e torno indigione a tempo e io sono chiuso qua dentro adesso però penso che possa aprire da qui si No, no. Oh che valdeira trovi alcune clue su Rachel, Kate, Nathan, qualcuno, io sono solo K's tornati indietro nel tempo. C'è solo due più file. Wowzer, questo non arriva in Andy. Eh questa è vittoria ci sono tutte le schede degli alunni questo è il file,Sherlock, sempre voleva dire NAB anche se fosse il principale di Blackwell I guess being a bully is in the Prescott DNA It died Ah, hai fatto vedere le telecamere C'è riuscita Non sei così tagliato a vicino C'è tutto qui, Max C'è bisogno di avere un'informazione nei file studenti C'è un po' che non dovrei andare a fare le file principali ma è molto bello C'è la possibilità di ottenere la riuscita a Blackwell Oh, sì, io sono così che non riesco a partire con il Vortex E quindi Questo già l'ho letto Ah, qua mi sono dimenticato Ah, la scheda di Rachel Rachel, come si chiama Ah, qua i capelli biondi, Chloe Vabbè, si sa Che è una ribella Dovrei tornare da Chloe Qui, eccola Qui, eccola C'è una ribella C'è una ribella C'è una ribella C'è una ribella Grazie mille di mi piace Raga E' dei regali Se mi avete dato qualche regalo Non lo so E quindi che facciamo Con questi soldi Beh, se il denaro è qui Il presidente lo sa Io penso di lasciarlo Perché Le impronte, cose Cioè, non può essere Tu sei la ribella Io no Ma come fai a prendere I soldi qui Cioè, nell'ufficio del preside Sì, vabbè Parla a leggere Sì, vabbè Sì, vabbè Sì, vabbè Di Hella Deserve Splish splash Sì, vabbè Sì, vabbè Sì, vabbè E poi stacco Grazie Gabriele No, 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 no. Diciamo che facciamo questa nuotata e poi stacco con Life is Strange. Poi vedremo. Perché voglio vedere se col PC riesco. Perché secondo me la qualità è migliore col PC. Poi non lo so. Perché non ho un PC molto potente per adesso. Siamo dei ragazzi. Buonanotte, la biela. I guess somebody forgot their blackwell spirit. I guess I should consider this evolution. No way am I touching Zack's jersey. Zack is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Sì. Betti ha sviluppato questo in la classe Jefferson, ma perché? Un po' hipster ha perduto la sua vape. Ah, quindi prende la medicina. Ecco perché è così. Dov'è Chloé? Ah, qua. Dov'è questa luce? Forse è qui. Aspetta, c'è un filo a terra. Allora. Allora. Dov'è questa luce? Scusa. Dovrebbe essere qui. Eh, no. Qui. Eccolo. 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 ... Eccolo. 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 ma non so chicken shit anymore grazie, amico you know what I mean you're becoming like this force of nature more like luck of nature come on, my power failed trying to rescue Kate maybe I'm just stumbling back and forth in time for what reason you didn't stumble when you saved me, Max thank God but what if I had what if se Kate non si riusciva, ma tu sarei morto. Quindi è il momento di andare avanti in tempo. E siamo ovviamente collegati, perché senza me non avessi mai scoperto i vostri potenti, certo? Absolutamente. Mi fa sentire che ho saputo quello che sto facendo. E mi fa sentire che ho un motivo per ancora essere in Arcadia Bay. Ho spero. Stopi essere così timido. Sei la più smarte, più talentosa che ho conosciuto. Più più di Rachel Amber. Dio, non sono la sua gruppe, ok? E sicuramente ti hai Blackwell bros all over te. Come Warren. Warren è... bello. Bello? Cosa significa friendzone. No, è davvero bello. E' stato così bello quando si riusciva a Nathan. Ma non ho non ho parlato di mio potente di riuscire. Noi. 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 E quindi? sono padre, com'è? posso usare il mio potere, o solo guardare un posto di scopo, o due che devo fare? aspetta, questo sta avvenendo qui forse ho capito, se ne va qui dentro ma io me ne vado ma che è? oh basta si ma non dovevo far standare qui o no? ah si, qua si ma andatevene ok raga, finiamo qui la seconda parte del terzo episodio, ci vediamo nella terza un saluto a tutti e poi qui si ma andate